Sono oltre 1.300 le aziende padovane che hanno partecipato al bando realizzato dalla provincia di Padova in collaborazione con l'associazione di categoria per promuovere l'efficienza e la competitività delle piccole e micro aziende. La provincia di Padova ha stanziato 4 milioni di euro a fondo perduto. Ci siamo immediatamente resi conto che il problema quest'anno è sicuramente il sostegno alle imprese. Abbiamo analizzato quali sono le imprese nel nostro territorio che sono piccole e piccolissime imprese, artigiane e di commercianti che molto spesso non hanno nessun tipo di sostegno per altre situazioni come possono essere le grandi imprese pensiamo ad esempio agli ammortizzatori sociali e quindi abbiamo cercato di individuare un meccanismo che potesse ovviamente aiutarle aiutarle subito in concreto per quest'anno non con investimenti fatti adesso e magari i cui effetti si vedono fra qualche anno. Abbiamo pensato a questo fondo, un fondo per dire alle imprese se avete bisogno di investire in tecnologia se avete bisogno di investire in sicurezza, se avete bisogno di rinnovare il vostro parco macchine cerchiamo di darvi una mano. Se voi siete così bravi che in questo momento di difficoltà investite noi vi diamo il 25%. Le domande sono state molte, sono state ovviamente oltre 1.300, riusciamo a dare risposta a circa più della metà delle domande che sono state presentate, la gardotaria è già disponibile nel sito con una grandissima efficienza dovuta anche alla forte collaborazione con le associazioni di categoria siamo riusciti in brevissimo tempo a di fatto erogare questi contributi quindi per ora gli imprenditori che hanno fatto domanda hanno presentato dei preventivi a presentazione di fattura siamo in grado ovviamente di pagarli. Questo è il primo aiuto che la politica, che le istituzioni dà veramente e ripeto veramente alle piccole imprese infatti questo è un sistema dove l'impresa ha la possibilità di mettere del suo con un aiuto quello che è la parte interessante e ulteriore valida di questo progetto è che sui 4 milioni messi a disposizione della provincia il volano e quindi il moltiplicatore diventa 4 volte, minimo 4 volte se non di più vuol dire muovere nel territorio dai 16 ai 20 milioni di euro e quindi vuol dire rimettere un po' l'economia a lavorare.